Eccoci qui, io, la mia macchina, amici di tante trasferte a Torino, oggi ancora oggi parliamo qui dal box di casa perché a casa ho i parenti per le feste pasquale, perché quando faccio i video voglio stare per i fatti miei da solo, non voglio che nessuno vi rompa le balle e anche perché mi pare giusto, non so, da Torino perlomeno vi presento la macchina. Allora, andiamo con ordine, la Juventus vince il suo ottavo scudetto di fila, vince il suo trentaseiesimo scudetto per i Juventini, trentaquattresimo per tutti gli altri, vabbè adesso non ci addentriamo in questa polemica, tanto è la solita storia, i Juventini dicono una cosa e tutti gli altri dicono un'altra, quindi non è questo il problema. Il punto è che dobbiamo andare con ordine, partiamo dal fatto che la Juve ha vinto il campionato, il campionato è una sua competizione, una competizione che è fatta di varie partite dove ti scontri con varie squadre e la Juve l'ha vinto e alla fine, punti alla mano, l'ha vinta meritatamente, punti alla mano. Dopodiché è ovvio che se uno parla della stagione, quella è un'altra cosa, la stagione è stata una stagione al di sotto delle aspettative, perché è stata simile a quella dell'anno scorso, è uscito ai quarti in Champions, però ha perso anche la Coppa Italia, ci si aspettava di più per la presenza di Ronaldo, ma non è andata come ci si aspettava, non per Ronaldo, sul quale c'erano delle discussioni, alcuni dicevano che non avrebbe reso perché il campionato era il più difficile, perché è vecchio, eccetera, invece la verità è che lui ha reso, tutti gli altri no. Dybala è stato sicuramente al di sotto delle aspettative, Manzuki è stato al di sotto delle aspettative, Quadrado idem, Canseo l'ha fatto bene la prima parte, male la seconda, il centrocampo ancora una volta si è dimostrato un reparto con delle forti debolezze, Pjanic non dà grandi garanzie, soprattutto se lo confrontiamo a un Pirlo, perché facciamo i nomi importati, uno dice, eh ma Pirlo, Pirlo, Pjanic non è Pirlo, eppure dovrebbe essere quello il ruolo, il tecnico della squadra, Matuidir, grande recuperatore di palloni, ma poi in Cespica è in continuazione sul pallone, bene invece Mrecian e Bentancur, ma sono giovani, promessi, anche Mrecian è giovane, lo so che ha la barba che sembra un 35enne, ma in realtà è giovane, e dopodiché la difesa, praticamente abbiamo perso anche Benadia a gennaio, chi cazzo c'è? Rugani, Casares, dopodiché ovviamente Bonucci e Chiellini, ma non puoi giocare solo con Bonucci e un Chiellini che ha delle condizioni fisiche di un certo livello, ci ha abbandonato praticamente per i quarti, quindi la storia di Ronaldo mi ricorda un po' il Napoli dopo aver preso Maradona, il primo anno giocava bene lui, male la squadra, e lui ha detto, ragazzi, o mi fate una squadra decente o me ne vado, stessa cosa, no? Alla fine gli hanno comprato dei giocatori fantastici, a me piaceva molto il Napoli, soprattutto se penso a Careca, a me Careca mi faceva morire, mi piaceva tanto, da avversario posso dire che mi piaceva tantissimo Careca, ad esempio Alemà, una grande squadra poi il Napoli ha costruito in quegli anni, grazie a Moggi, stessa cosa, secondo me Ronaldo resterà e in generale la Juventus avrà degli obiettivi validi, concreti, solo se costruiranno una squadra decente intorno a lui, a partire dalla difesa per arrivare ovviamente all'attacco. Nelle certezze ci sono state, ripeto, Emre Can, Bentancur, Chesni, sicuramente si è rivelato un grande portiere, per me anche Spinazzola, forse anche il giovane Ken può essere una grande promessa, dopodiché c'è tanto da lavorare, ecco Douglas Costa è venuto o meno anche lui, però ripeto, parliamo con calma, il campionato, il campionato lei ve l'ha meritato e devo anche dire è comunque una bella competizione da vincere, perché è la più lunga, perché è la più intensa, perché devi vincere contro squadre deboli, contro squadre forti, contro squadre alto livello, contro squadre al di sotto, quindi non è facile, si gioca durante tutto l'anno, si inizia col caldo estivo, si affronta la neve invernale, si ritorna col caldo estivo, quindi è una bella competizione, e poi soprattutto è una competizione che adesso ci viene anche da dire eh ma dopo l'eliminazione in Champions Strike non ce la faccio esultare, però pensate a squadre, penso al Milan dopo anni di crisi, penso agli interisti che non vincono da anni, ai napoletani che non vincono da, quando è stato l'ultimo scudetto, il 92 mi pare, eccetera, che se lo vincessero loro farebbero fuochi d'artificio, no, da qui fino a settembre, quindi è giusto anche così, cioè se vince un campionato comunque vada a mai dire scontato, bisogna sempre essere felici, è comunque un bel traguardo, dopodiché è ovvio che da qui a settembre c'è tempo per fare tanti ragionamenti, e ovviamente facciamo anche ragionamento su Allegri, la partita di oggi è la partita di Allegri, una squadra messa in campo secondo me male, una squadra avversaria che ha dominato nel primo tempo, che meritava di vincere, e con un Chiesa che prende due pali, quindi come ha fatto la Juve a vincere? Ha vinto grazie al culo, perché senza il culo la Fiorentina avrebbe vinto 0 a 3 il primo tempo, e probabilmente la Juventus non riusciva a fare quattro gol nella ripresa, dopodiché grazie a un colpo di culo sul calcio d'angolo, dopodiché grazie a un autogol vai anche in vantaggio, e poi alla fine, giocando in maniera moscia, porta a casa il risultato, c'è l'entusiasmo di un pubblico che spinge, c'è niente, c'è proprio moscia, una squadra che ha vinto così tante partite, la prima con il Chievo, ad Empoli, a Frosinone, a Roma con la Lazio, ma secondo me anche in fondo tante partite, in casa con l'Inter pur io c'ero, ma non è stata una grande Juve quella lì, abbiamo vinto, sì, sempre 1 a 0, però vedete, una squadra che, ecco, ad esempio con la Lazio, mi ricordo che immobile, si è mangiato un gol pazzesco, e poi dopo l'abbiamo vinta, però ecco, il culo, col culo, col culo ha vinto tante partite la Juve, comunque va del campionato, le ha vinte, quindi il campionato è meritato, perché anche sugli episodi, però comunque vinci lo stesso, ok, ma secondo me è necessario qualcosa, oggi, quando è entrato De Sciglio, c'è stata una cosa, un siparetto comico, non ha raccontato a Dawson, De Sciglio ha detto, ok mister, entro, ma che devo fare? Ecco, secondo me non è solo De Sciglio, è in generale, a volte la Juve attacca, si guardano intorno, e si chiedono, ma che devo fare? Ci sono altre squadre, penso al Tottenham, al City, al Napoli, anche se il Napoli di Ancelotti un po' meno rispetto a quello di Sarri, l'Ajax ovviamente, il Barcellone, ecco il Barcellone ha grandi campioni, Raghi, dice aveva Iniesta, aveva Puyol, aveva Piché, a Xavi, a, ovviamente, vabbè, Messi, Suarez, eccetera, eccetera, però giocano con il tiki-taka, giocano con un calcio che ha un senso, ha un'idea di gioco, ha degli schemi preimpostati, nei quali poi i campioni possono esprimersi, ma ci sono degli schemi preimpostati, addirittura Guardiola faceva allenare la primavera con lo stesso schema della squadra matura, così già i giovani potevano entrare in uno schema, ecco, pensate alla partita con la Spal, i Nicolussi, i Gazze, eccetera, potevano entrare in una squadra dove già giocavano con quello schema, la Juventus dovrebbe esprimere il suo gioco, che non è quello di dire ai campioni esprimetevi, ma è quello che è una filosofia di calcio, quella di Allegri, comunque ci sarà tempo per parlare di questo, secondo me comunque l'ambiente avrà bisogno di un cambiamento, sia ben chiaro, non sto dicendo che Allegri sia una pippa, non sto dicendo che Allegri è un allenatore pessimo, Allegri è un bravo allenatore, Allegri ha meritato tutto quello che ha fatto finora in Italia, però secondo me una sferzata ci deve stare a fine anno, vedremo, vedremo, comunque detto ciò, la Juve vince il suo ottavo scudetto di fila, è comunque una squadra che resterà nella storia, negli almanacchi del calcio, perché comunque è qualcosa di storico quello che sta facendo, vediamo che succede in seguito, però c'è tempo anche per gli altri video commenti delle altre partite per parlarne, certamente, oggi la Juve vince, ripeto, restando un attimo su Juve Fiorentina, con una partita molto Allegriana, non merita di vincere, vince lo stesso anche grazie al culo, Kulovic è stato un giocatore fondamentale quest'anno, comunque detto ciò, vi saluto e ci vediamo prossimamente, lasciatemi un piccolo PS, la Juve Stabia in Serie B, che bello ragazzi, sto godendo come un matto dalle 4 e un quarto, comunque detto ciò, vi saluto, ciao! Grazie a tutti!